Se un amministratore dopo due mandati è opportuno che vada avanti e lo ragioniamo nel merito, bene, se invece vogliamo parlare del Veneto, parleremo del Veneto a tempo debito, non vorrei che tutto questo sottendesse il tema Veneto e attenzione, anche a sinistra hanno il tema Campania e tanti altri. Siccome però le regole generali non si fanno per i casi particolari, io penso che dobbiamo realmente tornare a confrontarci su quanto sia opportuno in generale per un amministratore di enti locali e regioni complessi andare oltre i dieci anni di governo. La mia storia è legata alla mia esperienza da sindaco e penso che sia quanto mai opportuno un turnover, credo che sia un'ottima legge che ha dimostrato di funzionare. Qualcuno dice che per le regioni la complessità è maggiore, quindi qualcuno dice magari facciamo tre mandati invece che due. Io rimango convinto che è la posizione di Forza Italia, che i due mandati siano il giusto tema, il giusto equilibrio, però come tutte le volte il centrodestra si ritroverà e troverà la quadra, con buona pace della sinistra. Sarebbe meglio nel frattempo che la Lega ritirasse il suo emendamento in modo tale da poter regionare con tranquillità? La Lega fa legittimamente il suo lavoro parlamentare, nel passato anche noi abbiamo magari su altri temi presentati degli emendamenti, su priorità che consideravamo irrinunciabili, però poi alla fine come abbiamo trovato la quadra su altre vicende in cui all'interno del centrodestra avevamo sensibilità diverse, così lo si troverà anche questa volta. Però se si va alla conta in affari costituzionali, posto che la Lega non ritirasse l'emendamento, la Lega rischierebbe di rimanere all'angolo, quindi politicamente come si leggerebbe questa cosa? Ma no, no, io credo che alla fine la coalizione si ritroverà e troverà una mediazione e non si arriverà a nessun tipo di strappo, ma su questo proprio non ho dubbi. Quindi nessun rischio? Anche questa volta nessun rischio.